Sono Anita Cadavid, direttrice dell'Istituto di studi superiori sulla donna. Tra le domande più scottanti del nostro tempo troviamo quella che riguarda l'identità sessuale, il significato del corpo e il rapporto tra uomini e donne. Ed è basato su quest'identità di uomini e donne che si basa il contributo che ciascuno dei due può dare alla società, alla cultura e alla chiesa. Fino adesso non ci sono state risposte che possano soddisfare abbastanza questi quesiti. Salve sono Marta Rodrighi e sono una dei docenti di questo percorso che avrà un approccio con due caratteristiche. Uno che è interdisciplinare, due che tenterà di dare uno sguardo esistenziale e pastorale allo stesso tempo per tentare insieme di trovare risposta a queste domande che ha fatto Anita. Vi aspettiamo!